Una bella emozione, non mi aspettavo che venivano qua. Sorpresa riuscita, non sapeva del comitato di accoglienza all'aeroporto Monica De Gennaro. E allora qualche secondo per recuperare la medaglia e poi finalmente l'abbraccio con la famiglia. La gioia dei nipoti, le lacrime al bacio di mamma Virginia. Le foto con gli altri viaggiatori in arrivo a Capodichino prima del ritorno a Sant'Agnello in penisola sorrentina dove la favola è iniziata e dove Mocchi ha spiccato il volo a 15 anni con direzione Serie A. Libero tra le più forti al mondo, la guida in difesa della Nazionale d'Oro di Julio Velasco. Per lei apparige anche l'incrocio col marito Daniele Santarelli, l'allenatore della Turchia e ora finalmente qualche giorno di vacanza. Stai realizzando quello che succede? No, no, penso che sia un sogno. Penso che non riesco a svegliarmi da questo sogno. Adesso te ne torni un po' a Sant'Agnello? Sì, adesso faccio qualche giorno di riposo e poi riprendiamo.